e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi vi propongo un video che ho girato al motoro un motor ad uno qua in provincia di bergamo motor ad uno di colonia al serio che è uno dei penso più importanti almeno qua in lombardia penso anche a livello italiano sia uno dei più seguiti comunque niente è questo video come da titolo è il video del russian devil che è in pratica il muro della morte o una delle strutture del muro della morte dove ci sono delle moto che girano in una botte di legno io spero che vi possa interessare vi lascio al video e vi ricordo di iscrivervi al canale e ciao ciao benvenuti a tutti qua un applauso a tutti voi russia davis e diavoli russi non vedete lo sappiamo anche noi di russo non abbiamo niente ma semplicemente il nome originale di questa struttura l'abbiamo lasciato così questa è un'antica specialità che comincia negli stati riusciti d'america ufficialmente nel 1919 ma pare anche un po prima comunque i giornali i riorchesi dell'epoca dicono dell'apparizione di questo strano di questo di questo cartino di questa botte grande dove gli uomini girano con le motociclette qua dentro fino alla sua unità fino a sopra dove siete voi quest'anno sono quindi ufficialmente cento anni di volo drag cioè il muro della morte o motor drone chiamatelo come volete abbiamo qui sempre perché ancora non lo sa perché ancora non l'ha conosciuto ormai l'abbiamo adottato il maestro assoluto di questa specialità maestro vivente vivo e vegeto lui stesso ha un altro moto drone in germania uno degli ultimi due rimasti ed è gianna per l'applauso oggi qualcuno di voi ha visto un pochino il moto gp oggi avete visto qualcosa quindi la tv avete visto valentino rossi dolizioso gente eccezionale avete aspetto la tv qua dentro c'è giaga ferrera che è il valentino rossi di questa antichissima specialità adesso vedrete cosa in grado di fare con queste motociclette che hanno 90 anni non 9 90 un altro professionista di questa antica disciplina amico di giagati amico mio un applauso per la sua prima volta qui beno la mano per l'italia beno lasciamo la sua esistizione per ultima perché quest'anno con grandissima soddisfazione già ci ha portato il suo buon car qui non lo usavano da più di 30 anni è rimasto fermo lì adesso l'hanno ripeto restaurato allora comincio io con le giri qua sopra la sua raccomandazione di non far cadere niente all'interno del muro usate i telefoni che volete fare le represe di se volete non fate prendere niente applausi a tutti voi grazie ancora per il prestato corretto grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti